Ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano. Nuova ondata di caldo sull'Italia, ma non mancheranno temporali anche intensi. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per martedì 29 giugno. Locali pioggia al mattino sulle Alpi Occidentali, asciutto altrove, con cieli in prevalenza sereni, salvo nuosità medio-alta in transito, su settori tirrenici e isole maggiori. Al pomeriggio in stabilità in aumento al nord, con acquazioni e temporali anche intensi su Alpi e Prealpi, ma localmente anche sui settori di pianura. Variabilità asciutta al centro-sud con nuvolosità e schiarite. In serata e nottata residui pioggia al nord, ma in esaurimento. Asciutto altrove, con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime stazionarie o lieve aumento, massime in calo al nord e in aumento al sud. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.